Dalla collaborazione tra le associazioni Ollus, Morena, Una Farfalla per Sempre, Una Storia Felice con il contributo fondamentale del gruppo dei tifosi degli Ultra dell'Aquila Calcio Red Blue Eagles è nato da qualche mese un progetto in favore delle persone con problemi oncologici. L'obiettivo originario di questo progetto era quello di acquistare un macchinario di NICAP da donare al reparto di oncologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Si tratta di un dispositivo medico che impedisce la caduta dei capelli durante la chemioterapia. Successivamente, grazie ad una risposta straordinaria da parte della gente che ha aderito a questo progetto solidale al di là di ogni aspettativa, si è pensato non solo di acquistare due macchinari invece che uno ovvero la quantità massima possibile per coprire l'esigenza del bacino d'utenza afferente all'ospedale Aquilano ma addirittura di ampliare questo progetto attivando ulteriori servizi non preventivati inizialmente. Il perseguimento di questi ulteriori obiettivi è dunque ampliato i orizzonti del progetto in maniera significativa puntando a promuovere il benessere del paziente oncologico non solo dal punto di vista clinico ma anche da quello psicologico, sociale e relazionale. Si sta lavorando quindi su più fronti affinché siano attivati altri servizi gratuiti per i beneficiari. Dei poli di psico-oncologia destinati ai pazienti e ai loro familiari anche in quelle zone dell'Abruzzo attualmente sprovviste del servizio. Dei corsi di ginnastica dolce in acqua per pazienti oncologici grazie alla disponibilità delle piscine e alla collaborazione di idrochinesi terapisti volontari. Ad oggi hanno aderito la piscina comunale dell'Aquila con la Larinantes e quella di Teramo con la SDH2 Teramo. Anche qui l'obiettivo è quello di estendere questa iniziativa su tutto il territorio regionale e poi degli interventi di medicina estetica applicata all'oncologia finalizzati alla riduzione dell'impatto fisico e psicologico che i trattamenti di chemio e di chirurgia oncologica lasciano sul corpo dei pazienti. Questo ramo del progetto viene eseguito dalla nascente associazione Ollus Viva. Per sostenere tutti questi progetti l'Ultà dell'Aquila Calcio hanno avviato una sottoscrizione popolare coinvolgendo sempre più persone, ordini professionali, attività commerciali e singoli cittadini attraverso il porta a porta raccontando a ciascuno le storie di dolore e amore da cui tutti questi progetti solidali sono partiti e garantendo sempre la massima trasparenza su ogni singola donazione ricevuta mediante un contatore aggiornato in tempo reale visionabile sulla pagina web www.redblueeaglesl'aquila1978.com